Nuovo ospedale a Fano o a Pesaro? A questa domanda non c'è ancora risposta e non si placa la preoccupazione dei cittadini per il futuro della sanità e dei servizi garantiti al Santa Croce e San Salvatore. Intanto il consigliere regionale di area popolare Mirko Carloni ha chiesto la convocazione della Commissione Bilancio per sapere dal presidente della regione Marche Luca Ceriscioli dove intende reperire i fondi necessari per realizzare l'ospedale unico previsto nella provincia di Pesaro e Urbino. Durante una seduta del consiglio comunale di Fano, ricorda Carloni Ceriscioli, ha affermato di aver individuato le risorse e parliamo precisa di una cifra compresa fra i 100 e i 150 milioni di euro. Il consigliere di area popolare chiede un'operazione di verità per non illudere i cittadini danni in attesa di ottenere risposte. Per l'onorevole Lara Ricciati invece l'ipotesi di Fosso Segliore va tolta dal tavolo a causa delle condizioni della viabilità stradale nei periodi in cui c'è grande afflusso sulle spiagge e l'elevato rischio idrogeologico dell'area. La parlamentare di sinistra italiana chiede chiarezza a Ceriscioli sul modello tipo Cotignola che il presidente intende perseguire e sul sindaco di Pesaro dice Ricci rappresenta una comunità circoscritta e non gli è permesso scegliere e decidere per l'intero territorio provinciale. La sua, dice Ricciatti, è solo un'opinione. Sul tema della sanità è intervenuto oggi anche il segretario di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, Andrea Montalbini, secondo il quale era già tutto scritto e deciso dal Partito Democratico, tant'è dice che il segretario del partito di Fano, Stefano Marchegiani, si era lasciato sfuggire tempo fa che Santa Croce sarebbe andato ai privati. Come Ponzio Pilato, scrive Montalbini, Ceriscioli si laverà le mani ed il suo partito regalerà la sanità pubblica ai privati inginocchiandosi al volere di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e uomo di punta di Renzi. Se fosse vero che ci sono già stati contatti con la proprietà di Cotignola per privatizzare il Santa Croce, allora le cose sono due, puntualizza Montalbini, o Seri non sapeva nulla oppure sapeva tutto e ha taciuto. Se così non fosse, il sindaco di Fano dimostrerebbe di essere schiavo del PD. Mirizola di Fratelli d'Italia chiede invece a Seri di firmare all'unanimità un documento che parli solo del Santa Croce per difendere il nosocomio e propone di scendere in piazza insieme ai cittadini per manifestare, scrive in una nota, il nostro diritto alla salute.